Musica Varia la programmazione pomeridiana di Canale 5 di domenica 10 ottobre la partecipazione della Nazionale Azzurra di Calcio. Alla finale per il terzo e il quarto posto di National League, prevista domenica alle 15 in diretta TV, suggerisce di non costringere il pubblico a dover scegliere tra il match dell'Italia e due programmi molto seguiti come amici e verissimo. Al posto dei due programmi andranno in onda tre nuovi episodi della soppopera attualmente in palinsesto Beautiful Una Vita Love Is In The Air, che saranno seguite dal TV Movie In Galinstroma Nella Tua Vita. La puntata di amici prevista domenica andrà in onda lunedì 11 ottobre, sostituendo eccezionalmente uomini e donne. L'edizione domenicale del programma riprenderà il 17 ottobre. Verissimo invece andrà regolarmente in onda sabato 9 per poi riprendere come d'abitudine sabato 16 e domenica 17 ottobre. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.